Salve amici di Advance Italian, questo è il quarto dei quattro testi della parte comprensione della lettura dell'esame Celi 3 livello B2 del giugno 2003 che andremo a vedere insieme. La comprensione della lettura insieme alla prova di produzione dei testi scritti durano in totale 2 ore e 15 minuti. In questo video analizzeremo solo il quarto testo e poi in un video successivo andremo a vedere anche la parte della produzione dei testi scritti. Vi ricordo che gli altri tre testi, ossia le tre parti della prova di comprensione dei testi scritti, li potete trovare all'interno del mio canale Advance Italian nella playlist Celi 3 B2. Comprensione dei testi scritti. In questa parte bisogna rispondere alle domande che ci sono riguardo a questo testo. Bisogna rispettare il limite di parole che avete tra parentesi. Io vi consiglierei di leggere prima la domanda e poi cercare le risposte nel primo paragrafo. Cominciamo. Come viene definita questa zona e per quale motivo? Da un minimo di 15 ad un massimo di 20 parole. Le magnifiche Alpi Giulie. Negli anni 50 qui ci sciava Zeno Colò e non c'erano questi moderni impianti di risalita ma chi amava le montagne, la montagna faceva di tutto pur di arrivare in quota quassù. Nelle magnifiche Giulie. Racconta Gianfranco Cerrato che gestisce il rifugio, l'arche da 107 anni, sentinella del monte Lussari e del suo santuario. Siamo nel cuore dell'alto Friuli, in quel punto preciso dove a nord l'Italia diventa Austria e a est diventa Slovenia. E un solo colpo d'occhio si abbracciano le cime di tre stati. Un territorio non per niente definito finestra sull'Europa. Quindi la zona viene definita finestra sull'Europa perché si trova nel confine tra Italia, Austria e Slovenia. Scriviamolo su Word in modo da poter anche leggere il numero di parole. Sono 16, scrivetelo anche voi. Io lo cancello in modo da poter ricontare poi le parole per la domanda successiva. La domanda numero 2. Indichi 5 caratteristiche che possono rendere piacevole una vacanza nella zona descritta, da un minimo di 25 ad un massimo di 35 parole. Siccome ci sono 5 caratteristiche bisogna scrivere un bel po'. Centro nodale, Tarvisio, dal quale si dipanano strade, piste e sentieri che si allargano nei dintorni. L'area sorprende. Primo, è una zona perfettamente attrezzata per le attività sportive con impianti di ultima generazione, tanto da ospitare le universiadi del 2003. Secondo, la natura è davvero incontaminata. La foresta di Tarvisio, riconosciuta parco nazionale, si fa spazio per oltre 23.000 ettari. Un ambiente di selvaggia bellezza con flora e fauna difficili da vedere nel resto dell'Italia. E poi c'è la gente, schietta, autenticamente montanina, non ancora viziata dal turismo, capace di tenerti davanti al fuoco e a un buon bicchiere di vino per raccontarti piccole o grandi storie. Intorno, tutto ciò che un tradizionale soggiorno in montagna può offrire. Sci a volontà, passeggiate, sled dog, trekking ed arrampicate. Una vacanza a dimensione familiare che esclude il cliché cittadino del vedo gente, faccio cose, comune ad altre piste di neve più glamour, senza lo stress di lunghe file, agli impianti di risalita, ma con piste da campioni. Qui dobbiamo cercare di usare 5 caratteristiche ma cercando di riassumerle per non oltrepassare il limite di parole. Quindi possiamo dire che La zona È perfettamente attrezzata per le attività sportive, la natura è incontaminata, la gente è schietta e montanina, le tradizionali attività di montagna, che sono queste ma non le menzioniamo e una vacanza familiare Scriviamo tutto e leggiamo quante parole contiamo quante parole sono Sono in totale 28 parole Eravamo tra 25 e 35, quindi 28 vanno bene Il piccolo paese si è sviluppato intorno Qui la settimana bianca è l'insegna dell'andamento lento tra assaggi di frico, goulash, chiacchiere rilassate, gite artistiche, gite artistico-culturali Per esempio, alla fortezza di Tarvisio del XIII secolo, oppure in giro per musei come quello etnografico nel bel palazzo veneziano di Malborgheto Dove osservando i reperti geologici e paleontologici ci si può fare un'idea più precisa della storia di quest'area Qui una volta si arrivava con il mulo, oggi c'è una cabinovia super accessoriata Continua cerato, oste e ospite colto attento alle tradizioni e lungimirante rispetto allo sviluppo turistico di questo piccolo borgo Nato sulla fama del santuario dei tre popoli Che dal 1360 è meta di culto religioso di gente latine, slave e tedesche Qui possiamo dire che il piccolo paese si è sviluppato intorno alla crescita turistica e alla fama del santuario dei tre popoli Sono questi i punti E poi rimaniamo sempre tra 10 e 15 parole Proviamo a scriverla Siamo a 11 parole Quindi Siamo nei limiti Concessi E l'ultima domanda è Quale fatto fu considerato straordinario nella storia della statuetta di legno? Nell'antichità un pastore che cercava le sue pecore smarrite trovò quassù una statuetta di legno raffigurante la Vergine La presa e la portò a Caporosso Il giorno dopo però la statuetta fu trovata circondata da un gregge di pecore proprio nello stesso punto dove il pastore l'aveva raccolta Lì fu costruita una cappella Spiega Gianfranco mentre la moglie Adele porta in tavola fumanti Quindi Agnolotti fatti con patate ed erbe di montagna Quindi Il fatto qui è Il fatto straordinario È la statuetta e il gregge di pecore Che fu trovato nello stesso posto dove il pastore trovò la statuetta Punto in cui venne poi costruita la cappella Possiamo dire Quindi Il fatto di aver trovato un gregge di pecore nell'esatto posto dove il pastore aveva trovato la statua È lì dove la cappella venne costruita Scriviamola e vediamo se siamo tra 20 e 30 parole 26 parole quindi tra 20 e 30 Vi ricordo che nell'esame non potete usare il computer Dovete scrivere su un foglio però Più o meno cercate di contare visualmente Non contate dopo ogni parola che scrivete Più o meno potete farvi un'idea tra 10, 20 e 30 Queste sono le risposte di questa parte Che è l'ultima parte della comprensione dei testi scritti Vi ricordo un'altra volta che le altre tre parti le potete già trovare all'interno del mio canale Dove ci sono anche esempi di altre prove Che ho trovato su internet Spero che il video vi sia piaciuto Vi inviterei a mettere un mi piace al video e a lasciare l'iscrizione Ci risentiamo nel prossimo video Ciao